Luciano D'Alfonso ha scritto all'Enel una lettera nella quale il governatore d'Abruzzo lamenta all'Enel, citiamo testualmente, la mancanza di un pronto e adeguato intervento e il perdurare della situazione di emergenza. Giusto che il presidente della regione faccia sentire la sua voce, d'altra parte con 117 mila utenze disattivate per due giorni in Abruzzo è chiaro che qualcosa non ha funzionato. Malati costretti ad essere trasportati in ospedale perché a casa non potevano ricevere le cure adeguate a causa della mancanza di energia elettrica, anziani al freddo, famiglie in condizioni di primo ottocento ma senza i camini, almeno a quell'epoca grazie a questi ci si riscaldava. La colpa è indubbiamente dell'Enel ma la politica qualche risposta dovrebbe pur darla. In provincia di Teramo ad esempio la situazione è la seguente. Dal primo gennaio c'è stato un massiccio trasferimento della forza lavoro all'Aquila perché Teramo è stata depotenziata e le strutture e gli operai che prima intervenivano nel Teramano sono stati costretti a trasferirsi nel capoluogo per lavorare. Sapete in quanti sono rimasti in provincia di Teramo? In dieci. Già, in dieci con un'età media di 50 anni circa per coprire l'intero territorio comunale che già con la normale amministrazione sarebbe un'impresa. Figuriamoci in una situazione di emergenza come questa. Dieci persone che hanno dovuto riattivare oltre 30.000 utenze, dieci persone che hanno dovuto coprire 1948 chilometri quadrati, dieci persone costretti a lavorare circa 15 ore in una giornata. Ecco, è giusto che D'Alfonso scriva all'Enel ma quando la politica pensa che risparmiare sia centralizzare, sia chiudere sedi di società che forniscono beni e servizi di prima necessità, che ritiene che la spending review sia da fare solo sulle spalle dei cittadini e non altrove, allora c'è qualcosa che non quadra. Chiudiamo quello che non serve ma non togliamo la manutenzione di quello che serve. Che senso ha lasciare dieci persone per interverire su una provincia nelle emergenze di energia elettrica? Certo, sono arrivati i rinforzi ma il pronto intervento è un'altra cosa. Le colpe sono dell'Enel ma anche la politica ha taciuto e aiutato.